Arruolavano stranieri che con documenti falsi venivano poi mandati negli uffici postali per incassare senza averne diritto il reddito di cittadinanza. Un'organizzazione criminale è stata smantellata dalla Polizia Postale di Milano nel corso di un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica che si è conclusa con la denuncia di più di 50 persone. Non sapevano parlare italiano ma muniti di documenti falsi che certificavano la cittadinanza italiana si presentavano agli uffici postali per incassare o tentare di incassare il reddito di cittadinanza. Sono iniziate così nel settembre 2020 le indagini che hanno portato all'arresto di due persone trovate in possesso di documenti falsi, all'esecuzione di otto perquisizioni e al ritrovamento di carte prepagate, di ricevute di presentazione della domanda del reddito di cittadinanza e dei messaggi che gli interessati si scambiavano per concordare i viaggi. La banda organizzava infatti l'ingresso in Italia di stranieri dalla Romania, dall'Austria e dalla Germania che venivano inviati negli uffici postali a ritirare il reddito di cittadinanza. A tradirli è stato un piccolo ma importante particolare. Secondo i documenti falsi erano cittadini italiani ma non parlavano la nostra lingua.